Sotto le macerie del tetto dell'ex salone parrocchiale di Vico Barone, crollato mercoledì pomeriggio, sono rimasti 10.000 libri ed Eternit. I volontari dell'Hauser di Ziano si appellano alla generosità di tutti gli abitanti per trovare nuovi locali. Serve una sede in cui sistemare quel che resta del patrimonio librario. I volontari che utilizzavano il salone parrocchiale di proprietà della diocesi per le loro attività hanno diffuso un volantino in cui si appellano al buon cuore di tutta la comunità di Ziano. Ciò che non è stato travolto dal crollo è comunque inservibile perché il tetto in Eternit ha distribuito polvere di amianto ovunque. Chi volesse sostenere l'Hauser può contattare l'associazione al numero 346 701 1960 oppure alla mail info-hauserziano.it. Il sindaco del paese, Manuel Ghilardelli, si è detto disponibile a collaborare per trovare soluzioni alternative in base alle disponibilità di locali di cui l'ente pubblico è proprietario. Nel frattempo resta da capire cosa fare del cumulo di macerie. Una delle maggiori criticità, a parte il disagio causato ai volontari Hauser e a tutti gli abitanti della frazione che in quel luogo avevano un punto di ritrovo, è la presenza di amianto, per il cui smaltimento servono procedure lunghe e molto costose. La diocesi, proprietaria dei locali, ha fatto sapere di voler mettere in atto i provvedimenti di competenza a salvaguardia dell'incolumità delle persone e della preservazione dei beni.